Siamo con Giovanna Letizia, centrale di la Sissi Volley che con un secco 3-0 si porta avanti nella serie di finale. Oggi contro la vittoria Assicurazioni Perugia avete giocato, si può dire, un partitone. Non avete sbagliato quasi nulla. Tutto, tutto facile? Tutto facile no. Diciamo che siamo stati dentro la partita dal primo all'ultimo punto. Ci sono stati gli errori, ma come è normale che ci sia, però la testa c'era, quindi il risultato è quello giusto. Siete partite sempre bene. Avete subito però delle rimonte prima della metà del set. In quelle fasi ci è sembrato a noi da fuori che ci ha messo sempre lo zampino te. Oggi 14 punti personali, match winner, insomma una bella firma su questa serie di finale. I punti fatti perché giustamente c'è la squadra che mi ha sostenuto, quindi i punti sono i miei ma sono della squadra. Andiamo a vedere com'è il ritorno. C'è tutta questa differenza tra Assisi e Perugia? Un 3-0 così netto? Beh, c'è differenza, come dicevo prima, è come si entra in campo, quindi la convinzione di giocare bene, di vincere, di diciamo punto su punto, mettercela tutta. Quindi la dimostrazione, ripeto, il risultato ce lo dà. Bene, allora l'appuntamento è per Gara 2 Perugia Assisi giovedì.